ciao altro spacchettamento subito dopo quello che avevo già fatto infatti se vedete aspettate che li sistemo un attimo ok perfetto allora anche qui 1, 2, 3, 4 di evoluzioni e poi un'altra di hair gold, soul silver forze scatenate io vi consiglio di tenere d'occhio le edicole perché adesso praticamente stanno buttando fuori e alcune non tantissime perché in realtà in un gruppo magari di che so 10 pacchetti uno solo era hair gold, soul silver se a qualcuno interessa quella serie lì e poi ce ne sono un parecchio in giro di queste qui ovviamente poi ci sono anche le espansioni di nero e bianco e anche alcune altre espansioni di x e y io ho preso queste di evoluzioni perché sono quelle che mi interessano di più tra tutte ok qui c'è mega charizard e oddio y no si y allora il codice 1, 2, 3 recupero di energia hunter pokédex drausi magikarp electabuzz rat eh si ciao ratata grow light la reverse polivrat se non sbaglio è una rara infatti se mi metti a fuoco si è una rara e la rara è arcanine vabbè più bella la la reverse quasi anzi senza quasi eh sempre evoluzioni ho lasciato per ultima con eh vabbè rai ovviamente ho lasciato per ultima quella di HS forze scatenate il codice 1, 2, 3 ok allora tenacia di brock poliwhirl manutenzione stario dodo ponita tangela widdle la reverse energia in colore doppia oddio questa cosa era rara ah si no aspetta no è non comune qual'è che era quella rarissima forse la era questa qui credo però non reverse era boh vabbè ok boh vabbè è la rara uh Mewtwo che bello che però già ce l'ho già e non è neanche holo vabbè Mewtwo il mio preferito e basta terza bustina si esatto terza bustina di evoluzioni con mega charizard non ho aspettato niente vabbè non è uguale codice mettiti a fuoco ecco perfetto 1, 2, 3 ok allora revitalizzante nidorino oggetto di involuzione ponita magnemite pikachu matchup weedle la reverse dodo e la rara e beedrill addio ma perché ancora sono piena di beedrill ok quarta vabbè tanto oh mamma mia vabbè allora codice 1, 2, 3 determinazione di misti revitalizzante nidorino diglet charmander seal magnemite ghastly uh bella chancey reverse che è rara credo si esatto e oh finalmente uh che bello raichu raichuolo fantastico non credo di averlo questo e mi pareva di avercelo anche negli anni 90 però era la versione normale mi sembra bello 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 bene ottimo beh dai non male ok adesso passiamo a mettiti in fuoco hs forze scatenate con il bel raichu aspetta non raichu raichu scusatevi raichu in copertina vabbè ok lasciamo perdere questa la taglio perché non so se ho la bustina ma non credo di avercela perché quelle di earth gold soul silver non non si trovavano più praticamente quando quando io ho cominciato a allora qui non c'è qui non c'è brava ma i tiri a fuoco ecco brava brava la mia macchinotta vabbè non c'è ovviamente il codice 1 2 3 ok allora ritorno di energia circolatore di pokemon amo buono riolu natu teddy ursa carni wine o carni vine no credo che si dica aspettate no carni wine si credo si dica carni wine weedle la reversa è plasol bellissimo carino e la rara è no vabbè ma dai c'è oh mio dio non è possibile suicune e ente leggenda ok cioè no vabbè ma ragazzi ma veramente ma è ridicolo l'altra volta avevo trovato di er golson silver lughi a leggenda la metà sopra adesso trovo metà sopra di suicune ente leggenda ok cioè vabbè io non ci credo oh mio dio vabbè vabbè basta ok e ok è bellissima cioè no ragazzi in telecamera non rende ma ha dei colori che sono stupendi oh mio dio devo trovare io devo trovare l'altra metà anche di questa ok ok e finisco così è bellissima già così secondo me perché suicune è il mio preferito anche in te per quello però no mi ci vuole anche l'altra metà va bene non ci credo oh mio dio vabbè basta ok allora alla prossima ciao ciao